Il si potrebbe partire dalla musica Per raccontare l'Europa che cos'è E con le note che l'hanno attraversata Capire quell'idea, spiegare i suoi perché La storia insegna a chi la vuol capire Che certi errori non vanno fatti più Che grandi sogni si possono alterare Soltanto se ogni muro facciamo andare giù Per ascoltare una bella melodia Per ammirare un quadro colorato Per il calore del nuovo modellato Per lo stupore di ciò che l'uomo ha costruito Non serve alcuna rinforza 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 Sentirsi come è possibile Trovando la ricchezza nelle diversità L'Europa vera è quella della gente Non è un'economia Non è un'economia È un'economia Mentre scelta e conosce, scelta, progetti per un mondo che guerre più non ha. Per ascoltare una bella melodia, per ammirare un quadro colorato, per il calore del marmo modellato, per lo stupore di ciò che l'uomo ha costruito, no! Non serve alcuna io, non serve alcuna di un cuore, neppure un peggio, neppure un peggio, serve solo l'amore per la vita, per la cultura e per la libertà. E si potrebbe partire dalla pecca, e si potrebbe partire dalla musica.